Buonasera, buonasera a voi. Allora prima di iniziare l'argomento di questa sera subito una rettifica. Ringrazio la vostra attenzione, me l'avete scritto e fatto notare. Credo di aver usato un bel po' di volte nel video del pomeriggio il nome Massimo per Bassetti e ovviamente Matteo Bassetti e me ne scuso. Quindi Matteo Bassetti. Allora veniamo al video di stasera. La cosa sembra veramente paradossale e fa quasi ridere se non fosse un argomento invece assolutamente serio. Vi ricordate di recente ho avuto modo di fare un video dove vi raccontavo come dei giudici fossero entrati ancora una volta a gamba tesa perché il decreto che il governo aveva emanato con la citazione dei 19 paesi sicuri tra i quali il Bangladesh. Un giudice di Bologna era intervenuto dicendo che no il Bangladesh non era un paese sicuro e quindi questo cittadino del Bangladesh non poteva tornare al suo paese. E ora è la volta di un altro giudice perché voglio dire poi si susseguono no? Tutti quanti poi i giudici di sinistra intervengono e fanno la loro parte e questo giudice ritiene che sia l'Egitto paese non sicuro. E allora io sorridevo perché pensavo ad una cosa. Io credo che a furia di vietare il rimpatrio di certi soggetti pericolosi che vengono da vari paesi del pianeta perché i giudici li considerano facendo politica non sicuri al contrario di quello che nel decreto ha scritto il governo ecco che ce li troviamo in casa e siamo noi a diventare un paese non sicuro. Ecco questo è il problema. L'Italia è diventato un paese non sicuro e quindi il governo probabilmente per rispondere in polemica ma in polemica anche che ci sta assolutamente ai giudici dovrebbero a questo punto informare i giudici che a questa stregua è l'Italia a non essere più un paese sicuro e quindi questi cittadini del Bangladesh, dell'Egitto e di altre nazioni non dovrebbero restare nel nostro paese. Veramente grottesco. ripeto se non fosse una cosa assolutamente seria ci sarebbe veramente da ridere no perché di fronte a queste cose uno davvero non riesce a capire come si faccia meglio. Noi abbiamo capito perfettamente no? Lo sappiamo. Questi giudici fanno politica e se c'è una cosa sulla quale io ho condiviso la posizione di Salvini è il fatto di dire a questi giudici ma perfetto ma chi ve lo vieta di fare politica mettete la toga al chiodo appendete la toga al chiodo e venite vi fate eleggere fate politiche potete dire tutto quello che volete fare tutto quello che volete votare quello che volete in Parlamento che la sede dove bisogna esprimere il proprio voto da cittadini che sono stati eletti da altri cittadini. Questo è la democrazia perché altrimenti non siamo più in democrazia in questo paese e soprattutto ripeto questo paese non è più sicuro. Questa è credo che è solare questo tipo di analisi è difficilmente contestabile. Con questo vi lascio vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani.